buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale per chi non mi conoscesse io sono paoletto per chi mi conosce lo sa chi sono e stamattina siamo venuti a fare la revisione al taiperone cioè la revisione il tagliando olio e filtri alla modica cifra dei 150 lei guardate questo cappone cappamenti per chi lo conosce ecco l'aeroplano stanotte ha fatto una bufera stava per crollare stava per crollare a bucarest tutti i arberi che volavano mo si ripresi stiamo lunedì mattina sono le ore 8 e 50 e la gente viva al lavoro con il caffettino ricco le cose se lavora il mondo va avanti come si dice chi se sveglia tardi non pia pesci stava aspettare boss vediamo un attimo se ci fassi olio e filtri allora rega solo per farvi notare guardate in tonza non c'ha un grammo di rucce a parte la sonda l'alambra nuove appena cambiate catalizzatore tutto tutto intatto niente rega non si riesce a levare il filtro che si è saldato proprio non sa quasi tutto per levare ma l'ha levato il filtro dell'olio ma si stava proprio ci ha messo tipo mezzo la sceglia perché va bene stava saldato e niente ma stavolta ci mettiamo quest'olio qua che io di solito ci metto il motul però lo shell mi hanno detto che è meglio guardate un po' che robetta questi specifico l'ho preso con l'Sn quindi vediamo un attimo vi dirò come va olio cambiato filtri cambiati quindi abbiamo finito adesso vediamo se ricarichiamo sulle leon cioè l'aria condizionata ci vediamo dopo oggi stiamo costato lo ragazzetto come si è portato tutto l'attrezzo ci abbiamo la macchina lì e adesso non la mettiamo mi codifica sta chiastro telecomando alla fine stiamo apposta quindi oggi risolviamo tutto e andiamo pure in palestra la macchina ha avuto telecomando avuta alla fine eccolo qua guardate un po' ma che figata è che poi non ce l'ho mai avuta col telecomando perché era perso funziona dai dai si trippi alla fine 65 euro 70 euro è una cosa che stava a posto vabbè della volkswagen però che ce frega l'importante mi raccomando è la funzionalità come tutte le cose che dico sempre che caffettino al five to go raga questo è il solito caffè diciamo che mi prendo perché quello diciamo più accettabile il romagnino dai non è male da come si vede però dettagli allora rega tagliando fatto telecomando fatto caffettino preso e mo visto che ci siamo parcheggiati davanti a cnm quindi abbiamo la macchinuccia qua davanti sanna ma fa pure due magliette bianche va che arriva dall'estate e direi che è il caso eh ce l'ho però servono servono altre compriamo vai eccola la best che giornata stupenda rega poi è quel caldo giusto dove non schiumi buongiornissimo a tutti la quale manda su e queste qua carine non so male questo eh però bu ma non cina così vabbè qualsiasi una la prendiamo così mo vediamo se ne prendo una azzurrina io volevo quelle bianche vabbè mo vediamo come sa che stanno no eccole no cazzo trovata c'è un attimo eh questa e se prendiamo pure questa o meglio nera che dite eh però sto nero è bello proprio dai prendiamo questa nera e mi raccomando non vi piate mai in colla v perché è no brutto inguardabile cioè non vi guarda nessuna ragazza quindi mi raccomando una cosa che vi posso insegnare almeno questa quindi questo questo se vede che sto pippato cioè non pippato sto bevuto di caffè comunque questo colore troppo bello infatti ce ne prendiamo due ma pure così poco costano queste dai sappiamo due di queste una di questa e andiamo se l'ha provata L questa eh troppo grosse vedete non va bene ci prendiamo dai ma allora massa sono toppe queste qua però oh stanno bene pure così grosse allora regà colore perfetto ve dico solo che qua non è bene però guardate che se vede comunque colore perfetto adesso proviamo pure questa bianca e seguiamo pure quella cazzo è stata bella mi ha facciato un cazzo bravo Paoletto regà alla fine me ne sono prese due nere ho trovato un'altra bianca quindi due bianche e due nere dai sono venuto a pagare perché sono andato a ritirare i soldi al banco Matt che stavano dentro al centro commerciale abbiamo pagato cambio filtri e olio 150 lei prezzo di 35 euro penso che sia come in italia ma in italia te lo fa il benzinaio qua te lo fa all'officina adesso andiamo ci abbiamo il tempo pure di andare in palestra andiamo a via la borsa a casa e noi ci vediamo dopo abbiamo fatto pure il tempo di venire in palestra ciao 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 abbraccio a tutti quanti ciao 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 ciao